Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, un incendio nel cuore della notte a San Giustino Valdarno, frazione del comune di Lorociuffenna. Dopo le 20.30 le fiamme sono divampate vicino al campo sportivo in via Borsellino. Una tettoia in acciaio coperta di pannelli fotovoltaici è andata a fuoco assieme ad otto auto ed un camper che erano parcheggiate sotto. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento, nessuna persona però fortunatamente è rimasta coinvolta. Un incidente invece ieri sera lungo la strada regionale 73 all'altezza del distributore di San Marco. E' intervenuta alle 22 la centrale operativa di Arezzo per lo schianto nel quale è rimasta coinvolta una sola auto finita fuoristrada. All'interno una sessantenne che ha riportato alcune lesioni. La donna è stata a soccorsa e portata in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto anche la polizia municipale e i vigili del fuoco. E adesso invece ci spostiamo a Salleo, ancora vandare in azione alla Bocciotromo, i residenti segnalano anche la presenza di topi. Le condizioni, guarda qua, fanno troppa confusione. Poi ogni come riaggiusti qualcosa e il giorno dopo ritornano. E sembrerebbe che è una banda di sti ragazzini giovani che sono sempre qui a Salleo e che nessuno gli dice niente. Perché come ti provi a dirgli qualcosa? Tac! Sono infatti queste le condizioni della struttura che si trova di fianco al campo da bocce di Salleo. Le finestre ormai sono state completamente sfondate, la recensione è nuovamente abbattuta e gli ambienti ormai devastati. Insomma, il Bocciotromo continua ad essere scenario di raid vandalici e bivacco. Molto preoccupante, anche perché è una banda giovanile, ragazzi giovani che fanno tutte queste cose. I sati da quelli più grandi, chiaramente, con la storia dell'impunibilità in quanto minorenni non gli possono fare niente. Pieno di confusione, hanno distrutto tutto ancora una volta e aspettiamo che il comune faccia qualcosa. Adesso i residenti segnalano anche la presenza di topi dentro alla struttura di proprietà comunale che si trova a lungo la strada principale e a due passi da un asilo. E' pieno di topi, escono da lì, più di tutti, poi si vedono che traversano la strada, infatti hanno messo già anche delle trappole. I topi li vedi proprio passare che vanno tutti nella stanzina quella più piccolina. E tra l'altro c'è anche un asilo, insomma. Accanto, cioè, è una cosa un pochino, secondo me è vergognosa, scusa la parola, ma è proprio vergognosa. Anche perché il comune è venuto, ha aggiustato le reti e il giorno dopo hanno distrutto tutto. Qui ci vuole che il comune venga o lo cavano oppure lo sistemano e lo danno in gestione a qualcuno che lo possa tenere. Perché c'è gente che lo vuole prendere in gestione e non riescono a prenderlo. Primo sì per i risarcimento destinati agli familiari delle vittime dell'accidio nazifascista di Civitella del 29 giugno del 1944. Si tratta della famiglia dell'avvocato Roberto Alboni, nipote di Metello Cesarini, una delle 244 vittime. Sì, al primo risarcimento agli eredi delle vittime dell'accidio di Civitella. Arriva dal fondo PNRR, istituito presso il Ministero dell'Economia per il pagamento dei danni e riguardo una famiglia pilota che potrebbe far da apripista alle altre. Si tratta di quella dell'avvocato aretino Roberto Alboni, nipote di una delle 244 vittime della strage nazifascista Metello Cesarini, per il quale è già stato avviato l'iter di liquidazione di circa 900.000 euro, come stabilito nella sentenza di condanna all'ergassolo di Max Joseph Mild, ritenuto nel 2008 come unico colpevole. Alboni all'epoca davanti al Tribunale militare della Spezia fu l'unico a chiedere ed ottenere la citazione in giudizio della Germania come responsabile civile della strage. Ad opporsi fu il PM Marco De Paolo, ma i giudici diedero ragione all'avvocato, disponendo il risarcimento a carico dello Stato tedesco. La Germania si è sempre ripiutata di pagare, sino a che non si è arrivati all'istituzione del fondo a carico dello Stato italiano. Da mesi l'avvocatura di Stato eccepisce però la prescrizione civile che scatta dopo dieci anni, in tutti i casi di richieste danni. Nel caso dell'avvocato aretino però c'è già stata la sentenza di condanna. Adesso dovrà essere istituito un tavolo tecnico per le modalità concrete della liquidazione. Lo stesso presidente Sergio Mattarella Civitella lo scorso 25 aprile aveva lanciato un appello contro la prescrizione dei reati contro l'umanità. Adesso l'avvocato Alboni sta portando avanti anche una nuova azione civile per conto di altri 170 eredi di 81 vittime. E proprio a Civitella questo sabato torna la Marcia della Pace. In cammino per la pace da San Pancrazio a Civitella. Torna sabato 18 maggio la Marcia per la Pace che coinvolgerà anche quest'anno gli studenti degli istituti comprensivi del territorio e i comuni stragizzati della Toscana, regione che pagò un prezzo altissimo di vite umane. Gli eccidi concentrati soprattutto tra l'aprile e l'agosto del 1944 furono più di 280, il comune interessati 83 e i morti tra i civili furono circa 4.500. Iniziativa e ricordo delle 244 vittime civili dell'eccidio nazifascista del 29 giugno del 1944 che si svolse lungo la strada che collega i luoghi della strage dei due territori comunali in un percorso di circa 9 chilometri da San Pancrazio condurrà fino a Civitella. Quello stesso tracciato in cui le truppe della divisione Herman Goering sparsero sangue di uomini, donne e bambini è organizzata dalle amministrazioni comunali di Bucina Civitella in Valdichiana, dal coordinamento nazionale Enti Locali per la Pace con l'adesione della regione Toscana alla provincia di Arezzo, Anci Nazionale ed Anci Toscana nell'ambito delle celebrazioni programmate nell'ottantesimo anniversario dell'eccidio di Civitella, Cornel San Pancrazio e nel 79esimo anniversario della liberazione. Questa mattina nella Salone delle Feste della Prefettura di Arezzo il prefetto Maddalena De Luca e il questore Maria Luisa Di Lorenzo, alla presenza dei dirigenti degli uffici della Polizia di Stato dell'intera provincia, di rappresentanze di personale dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, hanno consegnato le ricompense alla personale che sia particolarmente distinto in operazioni di servizio. I dipendenti della Polizia di Stato premiati appartengono all'ufficio gabinetto, all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e alla squadra mobile della Questura, nonché al commissariato di Sansepolcro e alla sottosezione di Polizia stradale di Battifolle. E ora voltiamo pagina. Per incentivare il passaggio al gas a metano, Centria lancia una campagna a costo zero. Fino ad adesso un allacciamento medio, che era comprensivo fino a 10 metri di lunghezza, costava circa 1600 euro più IVA. Ogni metro in più di lunghezza c'era un costo aggiuntivo di 192 euro. Quindi per l'utenza è un risparmio che può superare anche 2.000 euro. Allacciamenti a costo zero alla rete del gas metano. Centria, la società di distribuzione gas del gruppo Estra, ha così deciso di abbattere i costi in numerosi comuni dei territori serviti. Estra ha deciso di investire nel metano perché veniamo dal metano, siamo il metano e crediamo che sia ancora per molti anni un vettore della transizione energetica. La campagna prevede l'applicazione di una tariffa a costo zero a tutte le richieste sulla rete di gas naturale servita da Centria. Il gruppo Estra ha inteso nel piano industriale investire ben 100 milioni di euro nell'anno 24 e 25 attraverso Centria, che è la società del gruppo che si occupa di reti di distribuzione del gas. È un investimento importantissimo che ricade in provincia di Arezzo per un 22,5%. In particolare oggi proponiamo un'iniziativa sull'allacciamento gratuito. È previsto che per tutti gli allacciamenti, sia sulle nuove metanizzazioni ma anche sulle reti esistenti, sia abbattuto il costo dell'allacciamento che rientrano all'interno dei 20 metri dalla tubazione stradale e fino al diametro dei 3 pollici. Quindi in pratica oltre il 90% di tutti gli allacciamenti che andiamo ad eseguire saranno fatti a costo zero. Previsti anche sconti per le nuove richieste di estensione alla rete. Per quegli utenti che sono un po' lontani dalla nostra rete dove non è sufficiente fare solamente l'allacciamento, l'azienda ha previsto di dare un contributo che è pari a 30 metri di costo di estensione della rete per ogni potenziale utente. L'adesione alla campagna promozionale potrà avvenire sino al 31 marzo 2025 e interesserà i 27 comuni della retino soci di Coingas. Basta fare la richiesta, sul nostro sito internet ci sono tutte le informazioni, abbiamo messo a disposizione un numero di telefono anche con Whatsapp e il nostro contact center ai numeri che sono indicati sul sito e anche sulla nostra campagna. Questo pomeriggio è tornato a riunirsi la Consiglio Comunale di Arezzo. Nove le interrogazioni illustrate tutte dalle opposizioni. Tra le domande poste quali sono le azioni per prevenire e ridurre il degrado ai fenomeni di criminalità, poi se ordinanze per il ripristino di decoro e sicurezza analogo a via Fabio Filzi siano previste anche per l'area Ex Alebole, per il palazzo Ex Enel e ancora i costi della vigilanza privata attivata per il controllo dei giardini del Porcinaia e su chi ricadono i costi. Tra le varie domande anche quando sarà l'ultima azione dei principali lavori pubblici attualmente in essere ovvero il tunnel in zona Baldaccio, la sede della Municipale, la viabilità di via Fiorentina e quali saranno le azioni intraprese per sbloccare lo stallo del cantiere di via Fabio Filzi. E proprio su questo cantiere il Comune fa sapere che l'intento ha quello di tenere in piedi il rapporto con il privato finché possibile, ma che un eventuale piano B partirebbe dalla chiusura delle trattative con l'attuale soggetto seguita da una proposta d'acquisto dell'immobile da parte del Comune in vista di una nuova gara d'appalto. Sulle interrogazioni relative a sicurezza e lavori pubblici invece saranno fornite risposte scritte. E proprio in tema di sicurezza il primo cittadino ha annunciato che a breve entreranno a pieno regime altre 93 telecamere per un totale di 433 dislocate nella città e nell'immediata periferia, tutte collegate alla sala operativa del Comando della Polizia Municipale. E questo fine settimana nel centro storico torna anche la Maxi Isola Pedonale. Strade chiuse, tavoli di bar e ristoranti apparecchiati anche all'aperto nel centro storico Aretino. Torna così dal 17 maggio al 14 settembre, il fine settimana, la grande isola pedonale estiva. Come negli anni passati, a partire dal 2022, il Comune infatti ha concesso questa possibilità agli esercenti, in particolare a quelli della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande. Dunque, dalle 19 alle 24 di ogni venerdì e sabato scatta la zona pedonale allargata che a livello di traffico veicolare coinvolgerà soprattutto Via Roma, ma Piazza Guido Monaco dunque non sarà più possibile svoltarvi. La chiusura di Via Roma interesserà anche i mezzi del trasporto pubblico locale che subiranno variazioni nei percorsi. La pedonalizzazione interesserà anche le strade comprese in ZTL A e B, con l'individuazione comunque di percorsi consentiti ai residenti. Anche quest'anno, poi, Via Vittorio Veneto, nella parte più vicina al centro di Arezzo, avrà la sua area pedonale, come richiesto lo scorso febbraio da Confcommercio, che ha raccolto le istanze degli operatori economici dell'area. La chiusura al traffico seguirà in questo caso un calendario preciso. I giorni scelti sono il 14 e il 28 giugno e il 5 e il 12 luglio, ed interesserà il tratto di Via Vittorio Veneto, compreso tra Campo di Marte e Piazza Rismondo. Sabato 18 maggio ad Arezzo la seconda edizione della festa voluta da Fipecommercio, la giornata della ristorazione per sottolineare l'importanza economica, sociale e culturale del comparto che in provincia di Arezzo è rappresentato da oltre 2.600 attività. La giornata avrà anche un volto solidale, nell'occasione si potrà infatti donare a sostegno delle menze di comunità gestite da Caritas. Stasera invece prende avvio l'edizione numero 85 della Maggiolata Lucignanese, con la tradizionale serata inaugurale che prevede la sfilata lungo le vedi lucignano del corteo storico del gruppo folcloristico e della banda Rosini di Lucignano. A precedere questo assaggio il taglio del nastro al teatro Rosini della mostra iconografica e documentale 85 volte maggiolata. Ci dovrà attendere invece domenica 19 maggio per scoprire carri fioriti da Rioni pronti ad esibire le loro creazioni a tema generi musicali. Restiamo in Valdichiana. Sabato 11 maggio è stata ufficialmente inaugurata la scuola di musica Valentina Giovagnini nei locali dell'associazione Il Melograno a Castiglion Fiorentino. Un pomeriggio di festa, musica ed emozioni. Si sono infatti esibiti gli allievi della scuola e poi anche i maestri capitanati dalla cantante Menedetta Giovagnini, la sorella di Valentina. L'evento ha un significato particolare perché è ricaduto nel quindicesimo anniversario della scomparsa della giovane cantante avvenuta nella 2009 a seguito di un tragico incidente stradale. E adesso torniamo in città per andare a conoscere la mostra di Lella Pepe, dalle teste alle tele. La consapevolezza di essere cresciuta mi viene proprio guardando quello che io riesco a fare ora. Ora faccio cose che veramente è quello che voglio fare perché non devo dimostrare niente. Emozioni dalle teste alle tele. È l'ultima fatica artistica di Lella Pepe nella sua accademia che si trova nel cuore del centro storico di Arezzo. Faccio i capelli, no? Che parlo con la cliente e mi dico, ma belli questi cade? Io sto zitta, non dico niente, ma ti piacciono? Dici, ma di chi sono? Ma sono i miei? No, mi fanno subito, non è possibile. Però sanno che sono estrosa, che ogni tanto mi viene un'idea fuori dal mio lavoro, che è connessa al mio lavoro. E comunque dopo quando gli dico che le faccio io, dice no, non pensavo mai. Si è voluta così celebrare ancora una volta l'arte in tutte le sue forme. Dai capelli alle opere pittoriche, i colori e le forme si fondono in un unico e semplice messaggio, l'amore per il bello. Ci sono le onde, ci sono le viciole, ci sono le tante tonalità e soprammesse che vengono fuori. E io in questo momento ho un ritorno al colore. Siccome non sono una pittrice, appunto non uso il pennello, non uso nient'altro che le mani, quello che viene fuori su questi quadri è proprio connesso con le mani, con quello che ho dentro. Giostra della Saracino, venerdì 17 maggio alle 21.15, saranno presentati i soggetti delle lance d'oro delle due edizioni 2024 della Giostra del Saracino. Sarà il quartiere di Porta Santo Spirito quest'anno ad ospitare l'evento tradizionalmente organizzato dalla società storica Aretina. Il trofeo della Giostra di San Donato, che si correrà sabato 22 giugno alle 21.30, sarà dedicato a Giorgio Vasari nei 450 anni dalla morte. La lancia d'oro della Giostra della Madonna del Conforto, in programma invece domenica 1 settembre, sarà dedicata agli 800 anni dalle stimmate di San Francesco. E adesso la pagina dello sport. L'Arezzo sta preparando le carte per il documento di fattibilità da presentare al Comune a fine mese e un massimo nella prima metà di giugno. L'investimento da 22-28 milioni di euro previsto inizialmente però potrebbe essere un po' più contenuto. Per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio, l'idea iniziale era quella di costruire un impianto per una capienza totale di 12.140 posti e una soglia sufficiente per l'omologazione UEFA. Tutti a sedere e tutti coperti. L'area commerciale, originariamente molto più vasta, è stata invece ridotta. I lavori comunque, nella migliore delle ipotesi, non partiranno prima della 2025. E adesso il tennis. Una vittoria e una finale internazionale per Zeno Roveri del tennis giotto. Il tennis aretino, classe 2010, è sceso in campo a Pavia in una tappa del circuito Tennis Europe Junior Tour, dove ha giocato nella categoria Under-14 ed è stato protagonista di una settimana ricca di emozioni in cui è riuscito a vincere ben otti incontri disputati con coetanei di tutto il mondo. Roveri ha vissuto la grande gioia di centrare il suo primo successo internazionale nel doppio e di arrivare anche all'atto conclusivo nel singolo, confermandosi tra le migliori promesse del tennis giovanile italiano. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.